Oggi parliamo delle tecniche artistiche più congeniali per le persone con autismo. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video un po' speciale. Continuiamo la nostra cordata verso il ampliare gli orizzonti del mondo dell'arte. Oggi voglio parlarvi di quelle che sono le tecniche artistiche più congeniali alle persone con autismo. Uno degli errori fondamentali che si crea nell'arte è pensare che tutto vada bene per tutti. In realtà non è così. Tutti noi abbiamo delle tecniche che ci sono più o meno congeniali. L'autismo di contro ha delle caratteristiche precipue che fanno sì che alcune tecniche siano molto difficili da essere attuate dalle persone che hanno questa caratterizzazione personale. A questo punto parliamo delle tecniche. Non tutte le tecniche vanno bene per tutto. Come non tutti noi siamo propensi a lavorare con tutte le tecniche, anche per le persone con autismo ci sono delle tecniche che funzionano meglio nell'espressione e proprio nell'esercizio pratico della tecnica e tecniche che proprio causano frustrazione alle persone con autismo. Sicuramente la visione della realtà per una persona con autismo è una visione più data dai contrasti. Per loro vi è una visione veramente o è bianco o è nero. Quindi tutti quei progetti con un impianto chiaroscurale molto sviluppato, dove le ombreggiature sono molto sfumate, dove ci sono delle transizioni colore molto accentuate, dove quindi si passa, che ne so, da un blu a un verde acqua, ecco, in una gradazione morbida di colori, tutto questo può veramente diventare un ostacolo nella formulazione e nell'attuazione di un elaborato artistico. Bisogna quindi capire che ci sono delle tecniche che meglio si prestano all'esplicazione del sé da parte di una persona con autismo e delle tecniche che è meglio sconsigliare per non generare dei comportamenti che derivano dalla frustrazione del non riuscire. Quali sono quindi le tecniche che meglio si prestano? Innanzitutto sono tutte quelle tecniche dove c'è una forte scomposizione sia della figura che cromatica. La prima tecnica e il primo genere in cui le persone con autismo riescono estremamente bene è l'iconografia. Adesso osserviamo la tecnica dell'iconografia. Sull'iconografia c'è veramente molto da dire. L'iconografia, se avete seguito uno dei miei corsi, potete vederlo in chiaro su Arte per te nella sezione appunto Corso di iconografia, posta di varie fasi, la fase preparatoria del supporto, la fase di imprimitura, la fase di immissione del bolo per l'accoglimento della foglia d'oro e quindi la fase di coloritura. Tutte queste fasi sono congeniali ai ragazzi con autismo perché nella prima fase c'è l'immissione della tela e del gesso che è una fase molto rilassante. Quindi la carteggiatura che suggerisco di proporre divisa in un reticolo in modo che il ragazzo possa procedere a carteggiare un quadrato, una porzione per volta della tavoletta. Quindi la fase di immissione del loro è forse la più amata perché è una fase lenta, ripetitiva, ciclica e di riuscita certa. Quindi la fase che può essere più problematica è la fase della pittura. Ma ricordiamoci che nell'icona le sfumature non esistono, si passa da campitura a campitura con tecnica a guazzetto e di conseguenza è un genere di pittura, quella della tempera all'uovo, molto adatta a quelle che sono le propensioni per lo più dei ragazzi con autismo. Guardate qui, la trinità di Rublev è il lavoro, una delle tecniche creative ideali per favorire la concentrazione, il rasserenamento e soprattutto un bel risultato creativo. Vi faccio vedere alcune delle icone fatte da uno dei miei più bravi studenti e sono solamente due delle centinaia di icone che ha fatto insieme a me. Come vedete hanno un risultato finale bellissimo, molto ben strutturato, leggibile e comprensibile. Legata all'iconografia c'è un'altra tecnica decorativa molto importante che può essere da implementazione per le tecniche pittoriche, che è l'adoratura. Ricordiamoci che tutti quei gesti che sono lenti, ordinati, ripetitivi, si confanno a quello che è l'esigenza di queste persone. Di conseguenza la doratura fatta di gesti lenti, reiterati, sempre gli stessi, certi, definiti, la certezza per loro è importantissima, riescono in maniera esemplare. Le dorature infatti sono un campo della decorazione in cui l'autismo è molto molto avvantaggiata. Riescono benissimo. Altra tecnica veramente importante, sempre guardate, ora vi dirò come si chiamano queste tecniche alla fine, è il mosaico. Adesso attenzioniamo un mosaico creato dal mio allievo. Allora, vediamo come la compilazione a moduli risulti molto agevole, perché l'ordine, la pulizia dell'insieme, per l'autismo è una componente necessaria e anche molto rilassante. La compilazione, tessera dopo tessera, alternando anche le cromie in maniera ciclica, è favorita proprio dall'ordine mentale che i ragazzi con spettro autistico, per la maggior parte dei casi, hanno. Vedete appunto come viene fuori una pulizia d'insieme. Possiamo optare per differenti tipi di materiali. Il vetro può essere facilmente sostituito con tesserine di plastica che possiamo creare, per esempio, con i flaconi detersivi. Come vedete, l'ordine è assicurato e la riuscita è di grande soddisfazione anche per il ragazzo. Anche qui il mosaico è una tecnica di scomposizione essenziale della figura. Taglinetti, colori certi, le tessere hanno un solo colore, non hanno delle sfumature. È l'affiancamento che dà la sfumatura, ma dà un taglionetto. Quindi margini ben circoscritti, gesto reiterato, un gesto lento, sempre lo stesso, ritmico, compilativo. L'ho detta la parola. E allora, sono appunto le tecniche compilative. Andiamo a vederne qualcun'altra. La pittura. La pittura può diventare una tecnica compilativa quando la figura viene scomposta. Se io voglio far disegnare la gioconda ad un ragazzo con autismo, posso benissimo farlo. Naturalmente non devo rimanere fissata nei miei limiti pensando che la gioconda debba essere per forza questa, ma la gioconda può facilmente diventare anche questa. E diventa in maniera esemplare e semplice una scomposizione fedele che ritrae quel quadro in forme facilitate, ma nello stesso tempo attinenti al veritiero. Si vive il quadro per toni, per colori, per atmosfere, per dimensioni, per forme, per curve. Non si vive per sfumature, ma non importa, perché questo comparto non attiene alla persona a cui stiamo insegnando a fare qualcosa. Dobbiamo sempre rapportarci alle caratteristiche della persona che andiamo a formare, non alle nostre caratteristiche o alle nostre aspettative. Un'altra tecnica molto, molto importante, naturalmente, io vi parlo di tecniche per cui bisogna avere una certa autonomia di gesto, un certo livello di gestione della persona. Non parlo di casi super gravi in cui c'è un'estraneazione totale da quello che è il contesto. Ovviamente prendete questi video sempre in relazione a chi avete davanti e osservate caso per caso ed adattateli caso per caso. Un'altra tecnica è l'incisione, l'incisione con linoleum. L'incisione con linoleum è data dal solcare con una sgorbia delle linee. Attenzione, le sgorbie tagliano, quindi insegnare che la mano che tiene il tappetino va sempre posta dietro la sgorbia. E quindi, dopo aver ricalcato la figura sul tappetino, ripassarne i margini per poi andare in stampa su bicromo e quindi una separazione della linea dal fondo che dà in maniera stagliata quello che è il risultato finale. Allo stesso modo, la stessa tecnica la dà il pirografo. Adesso vediamo dei lavori svolti a pirografo con differenti tecniche. Vediamo, innanzitutto, dei lavori svolti semplicemente a pirografo. Quindi, tracciato il segno, il disegno sulla tavoletta. Io qui ho fatto tracciare il disegno con della semplice carta copiativa. Un disegno che fosse in linea con quello che è il gusto del ragazzo. Mi sono assicurata del fatto che lui sapesse gestire il pirografo. Questo come insegnanti, come persone che supportano un ragazzo con disabilità. Dobbiamo avere la piena coscienza prima di affidare un materiale, un elemento come il pirografo in mano a qualcuno. Ho affidato quindi il pirografo e, sotto la mia guida, lui ha compilato tutti i campi in positivo e negativo. La lavorazione in positivo e negativo è un'altra lavorazione ottimale per i ragazzi con autismo. Perché proprio scandisce i chiari e gli scuri, gli elementi che loro capiscono perfettamente. Vediamo qui la pagoda, come vediamo anche la grande onda. E sono fatti appunto in maniera lineare, molto ordinata e molto precisa. Guardate adesso come questo bel pavone è un elemento fatto a pirografo successivamente colorato con matite colorate acquerellabili. Quindi qui c'è un'evoluzione del lavoro. Quindi un ampliamento delle competenze. Da pirografo si passa a colorazione settoriale di ogni singolo settore con colori naturalmente suggeriti da una fotocopia che è detti esattamente lì dove va impostato il colore. Ricordiamo che la capacità di astrazione è molto spesso limitata. Di conseguenza non possiamo pensare che il ragazzo si carichi l'onere di immaginare di mettere il colore giusto al posto giusto, ma suggeriamogli noi la traccia. E così con metodo compilativo facciamo condurre tutto il lavoro. Vedrete che poi sarà felice di passare sopra un pennello sporco d'acqua per diluire il colore messo e vedrete nel suo volto una sorpresa meravigliata in positivo. Dal suo lavoro, dal suo essersi impegnato. Ecco quindi un lavoro, i papaveri, ancora più complesso in cui il livello di attenzione deve essere sempre crescente. Perché questo è anche un modo per lavorare bene, una implementazione della difficoltà passo passo. Si passa da un lavoro più basico a lavori via via sempre più complessi. Suggerisco anche di alternare le tecniche e non fossilizzarci sempre su una. Quindi tra una tecnica pirografa e l'altra inserire qualcosa di più rilassante dove l'errore è possibile. Perché nella tecnica del pirografo l'errore è un qualcosa che è difficile da correggere. Quindi provoca magari un maggiore stress emotivo. Parlo di stress emotivo in termini di tensione, di applicazione, non di crisi vere e proprie. Ma in questo caso si arriverà dopo un lungo percorso di acquisizione della tecnica in cui il ragazzo si sentirà anche sicuro e dove avrà capito che anche un errore può essere mimetizzato con delle tecniche di mimesi all'interno del lavoro stesso. Un'altra tecnica molto adatta è la vetrata. Quindi lo studio delle vetrate e la scomposizione della vetrata ci riagganciamo al mosaico ma possiamo anche fare i disegni tipo vetrata. Guardate questo bellissimo leone in cui la figura è scomposta secondo quelli che sono tratti essenziali in cui c'è una sorta di compilazione degli spazi che dà la cromia al disegno e anche il movimento e la plasticità. Quindi dobbiamo guardare all'arte filtrata dal bisogno educativo della persona che ci sta innanzi. Secondo i bisogni educativi speciali dei ragazzi con autismo, nella mia esperienza naturalmente, queste sono le tecniche artistiche da sviluppare con maggiore gratificazione e semplicità. Stessa cosa potete traslare queste tecniche con qualsiasi tipo di materiale, olio, acrilico, matite colorate. Questo non fa tanto la differenza. È piuttosto la sfumatura che è detta il problema che non la scomposizione. Poi con la scomposizione potete trattare ogni tecnica pittorica. Per scomposizione cosa intendo? Quindi voi potete prendere un qualunque soggetto, semplificarne le forme, scomporle di tutto quello che è l'apparato chiaroscurale, definirne il colore in maniera certa, quindi somministrare il compito o lo svolgimento del lavoro alla persona a cui volete farlo fare. Vedrete che otterrete degli ottimi risultati. Si prende un disegno e lo si scompone in singoli elementi, in modo da creare dei tagli netti tra una componente e l'altra e formare i chiaroscuri attraverso le variazioni cromatiche dei diversi settori. Quindi non far coincidere una sfumatura in un singolo settore, cosa che potrebbe portare a uno stress, perché il ragazzo potrebbe non riconoscere il degradare del colore, ma fare in modo che questa manifestazione di variazione tonale avvenga affiancando colori differenti in settori differenti. Diventa quindi anche qui un disegno di tipo compilativo e non creativo, perché noi dobbiamo addivenire al risultato che agganci il ragazzo, a una tecnica che sappia sviluppare in maniera autonoma, ma che non crei nessun tipo di stress emotivo nella persona che la sta conducendo. Dal punto di vista dell'estetica, i ragazzi con autismo sono molto esigenti dal punto di vista estetico e si rendono perfettamente conto della differenza tra un bel elaborato e un brutto elaborato, che automaticamente li discosta dal percorso. Un'altra tecnica creativa che piace moltissimo alle persone con autismo è lo sviluppo dei mandala. Quella ciclicità, quella ripetitività del gesto di compilazione dei cerchi mandala è una ciclicità che immette proprio in uno stato di concentrazione, di rilassatezza che è adatto all'emotività di queste persone. Ho potuto sperimentare che proprio la coloritura, naturalmente io qui parlo soprattutto della coloritura piuttosto che della compilazione a gesti, è un momento di grande, grande apertura ad uno stato di quiete che si protrae a lungo nel tempo. Partendo sempre da questo tipo di compilazione, una cosa che voglio suggerire anche per i bambini più piccoli sono le compilazioni pixelate. Tutta quella parte di pixel art oppure l'oro. I Kisla, queste le trovate facilmente all'IKEA, ma anche gli Amabiz li trovate su internet. Sono quelle perline che si fondono col caldo e che hanno un'azione veramente conciliante di quelle che sono le propensioni dei ragazzi con autismo. Inoltre, loro mi hanno aiutato tantissime in una situazione veramente disperata che ho vissuto alla scuola materna. Entro in una classe e c'era una bambina con un autismo molto grave, molto chiusa, molto oppositiva, respingente, in piena crisi, un po' anche aggressiva, buttata a terra che piangeva, era stramazzata veramente a terra e scalciava verso le insegnanti. E io lì mi sono trovata in una situazione molto particolare di grande imbarazzo perché la bambina fu incuriosita dal lavoro che io stavo facendo con gli altri bimbi perché al tavolo con me si avvicinavano soltanto supportati dall'insegnante di sostegno e quel giorno proprio l'insegnante di sostegno non riusciva a tranquillizzarla. Io ho sempre questo tono un po' calmo e quando mi rapporto specialmente ai bambini ho sempre il sorriso e qualche cosa che attiri sempre la loro attenzione. Una spilla particolare, un fiorellino particolare messo come spilla o nell'elastico dei capelli o sempre uno smalto colorato o sempre qualcosa che li incuriosisca. Naturalmente queste cose sono uguali anche per i bambini con autismo e mi ricordo che quel giorno io, lei, anzi fu lei a farlo un po' per strapparmeli via mise la mano dentro il barattolo e successe una magia che oggi so perché è successa dopo averlo studiato ma che all'epoca non mi spiegavo ma che presi proprio in considerazione come mantra della mia professione all'epoca lei appena introdusse la mano all'interno del barattolo dei pisla si tranquillizzò e cominciò a ravanare in questo barattolo stava ore passando la mano nel barattolo e sentendo la consistenza ruvida e flessuosa che le pietroline che le perline prendevano scappando dalle sue mani. I ragazzi con autismo infatti amano moltissimo la consistenza ruvida è una cosa che li incuriosisce cattura la loro attenzione ora in termini pratici in realtà tutt'oggi non so perché forse non lo sa nessuno ma in termini realistici questo può essere un grande aiuto per ristabilire un attimo di quiete ora non vi dico di girare col barattolo dei pisla ma mantenere delle consistenze che possano essere cioè scoprire osservando il ragazzo che avete accanto la persona che avete accanto quali sono le consistenze che più lo rispongono a uno stato interiore di quiete o di tranquillità o di rilassatezza potrebbe essere anche una carta vincente per ristabilire quello che è un momento di comunicazione di interazione con l'altra persona io la mia fortuna l'ho trovata con i pisla voi dovete scoprire quale può essere la vostra fortuna è stata veramente una fortuna perché me l'ha insegnata una bambina Carla che oramai avrà penso 18 anni e che da quel momento mi ha insegnato come rapportarmi con tanti altri bimbini io li chiamo bimbini i bambini dell'asilo della scuola materna ma che da quel momento mi è servito per capire come da un'attenta osservazione come capita nella vita di tutti i giorni noi troppo spesso prescindiamo dall'attenta osservazione da un'attenta osservazione di quella che è la realtà si possono trovare tante soluzioni ai vari problemi che ci si pongono innanzi la soluzione del mio problema sono stati i pisla i pisla sono anche una tecnica compilativa adattissima per il divertimento badate bene a questa parola il divertimento delle persone con autismo dobbiamo infatti distinguere quelli che sono i compiti dal divertimento dal ludico perché non si può pensare di formare una persona solamente aggrappandosi al ludico e non si può pensare di formare una persona solamente aggrappandosi al divertimento questi due piani proprio per la particolarità di queste persone proprio per la loro propensione per la loro peculiarità devono essere fortemente distinti perché ciò che si fa in momenti ludici non si fa in momenti di lavoro che il lavoro possa essere gradevole questo è un elemento che deve essere assodato ma bisogna distinguere specialmente nelle fasce d'età più alte deve esserci una netta distinzione tra quella che è un'operazione seria la serietà un'operazione lavorativa di compito di serietà nello svolgimento del proprio lavoro è un'operazione che deve essere ludica di divertimento hobbistica in qualche maniera bene il pisla è una componente creativa hobbistica di grande valenza tenetela in considerazione tenendo sempre in considerazione il fatto della gestione dei pisla sono delle perline e un attimo metterle nel naso in bocca quindi tenete sempre presente la persona a cui fornite il vostro supporto quindi se quella persona è in grado di gestire questi materiali non parlo solo dei pisla parlo di tutto quello di cui vi ho parlato allora con queste tecniche che vi ho suggerito potrete trovare un grande aiuto se la persona non è in grado di gestirle naturalmente non faterle neanche vedere non somministratele perché tutte le cose di cui vi ho parlato possono essere un bel momento di implemento della persona un bel momento di formazione ma possono anche diventare molto molto pericolose quindi valutate caso per caso osservate preventivamente meglio strutturatevi gli interventi in maniera programmata e a piccoli passi per vedere fino a dove poter spingere il vostro grado di intervento di formazione bene e anche per oggi vi ho detto tutto vi aspetto su tutti i miei social da ombretta e da arte per te è tutto alla prossima volta ciao